Altro giorno, altro mini vlog. Da oggi partono i saggi e le esibizioni varie. Starete a vedere. Mettete like, condividete il video, commentino per l'engagement. È bella. Capo, da dire qualcosa? Sì, sì. Io mi sono preso il camerino per me. Tutto mio. Nella pausa tra una prova e l'altra. Ora dobbiamo fare le prove del finale e le sbaglieremo. Merda, merda, merda. Da quelli di Brachim poi partiamo già sulla seconda. Bene? Sì. Chiaro? Voi sentite. Ho fatto per raccontarlo. Buongiorno, buongiorno. Comunque fa ridere come sia il primo anno che mi cambia velocemente e i miei sono andati via subito. Grazie. Vi amo, famiglia. 3, 2, 1... Sto andando all'astra e mi sto cagando un po' sotto questa... sotto questa sera. Tra l'altro ho appena fatto una cagata assurda. Liberarsi sempre prima delle esibizioni, ragazzi. Sempre. E' per il vlog. Cosa è qualcosa di intelligente? Ok, basta, grazie. No, scusate. Zora, hai da dire qualcosa? No way. Perfetto. Divertitevi. Quindi ti bagno a due. Vai, uno, due, tre. Merda, merda, merda. Un selfie o una foto? No, una foto. Adesso facciamo un selfie. Vai, tienilo tu. Perfetto. Bellissimo. E' un video, lo sai? E che cazzo! Oggi è il 9 giugno. No, sì, è il 9 giugno. Ieri c'è stato il saggio di passo dopo passo Academy, dove si sono esibiti i loyalty. Prima volta per loro che ballavano tutte insieme. Tra l'altro stesso palco dove io ho esordito la prima volta a ballare, quando ero tipo alto, così. Ho ballato anch'io. Ci sarà uno spezzolera di video, forse. E sono morto. C'ho le gambe spaccate. Visto che domani ho un matrimonio, ma non c'entra nulla. Domenica ho un'esibizione. Lunedì ho un saggio. Finisce così. Opla. E' scarrellata la scarrellata, io vado al contrario. Ok. Mi sa tanto di pioggia. La verità è che Lorenzo d'allievo è una tempesta. È un birbante. È un birbante. Mamma, poveri ammiori. A livello di supportazione di suo nome è... E devo farlo col grand'angolo? Forse sì, scusa. Ok, pro. Fai una faccia schifata. Attualmente sospesi. Raga, com'è stato ballare oggi? Oh, voi avete ballato benissimo. Grazie, veramente. Avete ballato da Dio come non mai. Ma oggi è la mia. Ciao. Buongiorno, come avete visto ieri non ci siamo esibiti, causa pioggia. Hanno spostato a mercoledì. Vediamo se riesco a portare qualcuno, anche se qualcuno è già in vacanza. Ora sto andando in teatro. Corsaggio di San Martino, quindi non so che numero siamo. Vabbè, siamo al 12 di giugno. Sono un po' in ritardo. No, non sono in ritardo. Sono 11.50 a mezzogiorno le prove. In teoria ce la faccio. Ho giocato a Monopoli Go, ragazzi. No, 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 vi rovinare, amici. Se Lorenzo non mi manda in banca rotta, va bene. Io avrei da dire qualcosa. Voi giocate a Monopoli Go? No. No? No? Sì? Sì? No? Sì? 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 Siete pronti, bimbi? No! 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 Tutto? Tutti insieme? Tutti insieme? No come? Appena tornato a casa dall'ultimo saggio, faccio vedere come ha messo a camera mia dopo dieci giorni di saggi e tutto. E la mattina, oggi, oggi è il 13, 13 di giugno, la settimana di poco è finita, ora ci sarebbe il 20 giugno, che vabbè è una replica del saggio, il primo saggio che avete visto, e poi l'1 luglio c'è una rassegna però più o meno finisce qua il tutto e ora mi vedrete sistemare il casino che vi ho mostrato ieri sera, basta, adesso vedrete. Ah, e altra cosa, come potete notare la gola è in fiamme, però grazie. Ciao. Ciao. Grazie. che ha fatto una fede un cese Paola da Maldonisi che è mia mamma